La luce è sempre stato un materiale che mi ha attirato. È forse il materiale più importante del costruire. È anche legato all'acqua. Quindi nei miei caratteri c'è la luce. La cosa che mi piace più sono i cantieri. Ah, questo è il mio ricordo. È un mestiere stranissimo quello dell'architetto perché c'è un filo rosso molto sottile che collega la tecnica con la poesia. È particolarmente importante costruire dei luoghi dove la gente si incontra perché questi luoghi sono fatti per durare nel tempo. L'energia che metti in un progetto è sempre come la prima volta. Non si può fare un edificio inseguendo gli indici di gradimento. Qualcuno ha scritto che è un lavoro creativo un po' come guardare il buio senza aver paura. Carlo, siamo come degli animali in via di estinzione. Ora, ecco. È un cosiddetto a spazio. Questa è un'ora alo strano, ma qualcuno ha scomparato, udono, non è un luogo di riso Che diventiamo, non è un luogo di riso Che è davvero plugin che nel luogo di riso Che ne ha ricordato Grazie a tutti.